C'è una sottile linea fra la realtà e la fantasia. La Terra dallo spazio dove il filmato vero incontra l'animazione. Ad un certo punto nessuno è in grado di mostrare un filmato reale della Terra. Decolliamo per lo spazio. La Terra dà un aereo. Vero e verificabile. La Terra dà un pallone meteo. Vero. E' verificabile. La Terra dà la Soyuz nel viaggio verso la stazione spaziale. Non c'è mai una veduta completa senza tagli. La Terra dà la stazione spaziale. Mai una diretta notturna con le stelle. Dentro ad un razzo dal decollo all'orbita con una telecamera esterna. Terra dà la razzo. Questa parte termina quando inizia il primo taglio. La Terra dà il modulo lunare Apollo 11. Nessun video della Terra dà il modulo lunare. Tutte le immagini dell'Apollo 11, primo uomo sulla Luna, sono solo alcune fotografie che vengono ripetute continuamente. Himawaii 8, pallone meteo giapponese che scatta immagini dalla Terra. Terra dà pallone meteo. I palloni meteo non possono produrre immagini o video della Terra. Terra dà il telescopio Hubble. L'Hub non è in grado di produrre nessun film ma solo dati. La Terra in orbita attorno al Sole vista dallo spazio. E le stelle orbitano l'enorme buco nero al centro galattico. La nostra galassia vista dallo spazio. E il resto ovviamente sono solo false immagini computerizzate. Il Sole. Buona ricerca a tutti quanti. Buona ricerca a tutti quanti.